bella a tutti e benvenuti ragazzi dal vostro shop 79 continuiamo con le sponsorizzazioni questo video ce l'entrò la mezzanotte quindi rispetto alle date i 10 canali di oggi andrò molto veloce perché un sacco di cose da fare cominciamo subito questo è il canale di gozzerino è già sessi eccolo ok questo è questi sono i loro video ma in siti inizio è informazioni faccio vedere loro c'hanno 42 iscritti 542 visualizzazioni questo canale già era stato sponsorizzato tanto tempo fa mi ha chiesto di essere risponsorizzato l'ho rimesso in lista e mi è ricapitato di risponsorizzarlo praticamente oggi ok adesso vediamo il secondo canale questo è il canale di svalvolati sul tubo un canale fighissimo va ammazzate dalle risate ragazzi dovete guardare assolutamente quello che loro fanno vi consiglio di vedere il loro ultimo video loro fanno ammazzare dalle risate fanno anche la serie di arena insolation dovete per forza guardarli assolutamente se vi faccio vedere informazioni loro c'hanno 53 iscritti 649 visualizzazioni mi raccomando ragazzi iscrivetevi a questo canale ha bisogno di supporto ok adesso c'è un altro canale questo è over game sempre un canale fa video di minecraft lui è un sentiremo è un ragazzo abbastanza giovane però è bravo allora queste sono le sue informazioni 26 iscritti 679 visualizzazioni mi raccomando ragazzi iscrivetevi lui è over game adesso c'è un altro canale che è the kiplers questo è un canale abbastanza fico faccio vedere c'hanno una intro bellissima che poi non è che basta fare una scritta con una musichetta cioè bella come questa eccoli sono due ragazzini sono due fenomeni veramente sono bravissimi dovete guardare i loro video assolutamente questo io ancora non l'avevo visto mettete mi piace iscrivetevi al loro canale informazioni loro c'hanno 205 iscritti 1840 visualizzazioni questo anche c'hanno abbastanza iscritti sono due ragazzi abbastanza forti veri si racconti ve ne accorgerete prossimo canale questo è step lui è professionista io quando dico professionista perché perché è un attore nato guardatelo mi fa ammazzata risate assolutamente raga dovete vedere lo per forza mettete mi piace oddio mi ero scordato le mette mi piace eccolo lui è step ragazzi quindi ricordatevi di iscrivervi le sue informazioni 76 iscritti e 1311 visualizzazioni mi raccomando ragazzi iscrivetevi 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 prossimo canale è questo di super youtuber questo è un canale che ho avuto difficoltà di trovarlo ce l'avevo vista ma è stata tosta però vi faccio vedere i loro video loro sono bravi mi piace mi raccomando mi raccomando informazioni vi faccio vedere adesso 48 iscritti 3487 visualizzazioni questo ragazzi è il canale di super youtuber mi raccomando iscrivetevi tutti quanti questo è goodshop98 altro canale informazioni vi faccio vedere ciao 14 iscritti 298 visualizzazioni questi sono mai più come loro ci hanno bisogno d'aiuto così i loro video fifa stagioni 15 online 2 faccio vedere lui è bravo bravissimo questa è la intro bellissime ste musichette sull'intro questo è il suo canale mi raccomando iscrivetevi home page lui è goodshop98 ok prossimo canale questo è simulso gaming vita vi faccio vedere questo canale informazioni 74 iscritti 1937 visualizzazioni i suoi video vedete i suoi video questo è quello del wrestling bellissimo 2015 i video sono di ottima qualità lui è bravo è bravissimo a fare il comment e tutto quanto guardate eppure è forte eppure è forte sto video è bello perché se confiano dei botte dovete assolutamente vederlo questo è il suo canale mi raccomando iscrivetevi ragazzi iscrivetevi ok prossimo canale ragazzi lui è willan bayler home page vi faccio vedere adesso le sue informazioni lui ha 68 iscritti 1700 visualizzazioni è molto bravo ok è bravissimo veramente guardate vi faccio vedere speciale natale a scuola lui è game oversize cioè è fatto bene questo logo perché lui è il frecciarossa dei giochi praticamente lui comincia una serie e dopo quattro giorni l'ha finita ok lui c'ha tutto un suo stile per fare i video non usa la webcam ok perché è li fa proprio apposta così la intro è spettacolare vedete lui se spara in 21 minuti un livello intero senza mai fermarsi un secondo cioè è una bestia calcola se magna i giochi proprio a raffica cioè lui ragazzi è un pro mi raccomando iscrivetevi al suo canale anche perché cioè guardate bene informazioni 557 iscritti 60.262 visualizzazioni lui è un pro ma è anche quasi un big un salutone a game oversize ragazzi mi raccomando iscrivetevi condividete questo video adesso vi faccio vedere la lista aggiornata delle sponsorizzazioni leggete bene per favore tanto lo so che mi arriverà il commento che tu stai elencando qui e mi metterai il commento quello sharp quando uscirà il mio video di sponsorizzazione perché non hai visto il video fino alla fine per questo io questo ve lo metto alla fine qui sono paraculo quindi ragazzi guardate bene questa è la lista questi quelli in fondo martedì 24 febbraio sono gli ultimi che da aggiornare sono solo 4 adesso per martedì bastiamo cioè se mi arrivati già tutti i prodotti fino al 24 febbraio e calcolate che sono 10 canali a botta eccoli eh giovedì 12 domenica 15 mercoledì 18 sabato 21 e martedì 24 io rispetto tutte le date per questo non sgaro mai ragazzi mi raccomando iscrivetevi condividete questo video mettete like e tutti i canali che vi ho rancato un bacione ragazzi da vostro shop 79 e ci vediamo al prossimo video grandi e ci vediamo al prossimo video